Capezzi non ti cercava solo il Varese, avevi anche altre offerte, perché hai scelto questa piazza? Ho scelto Varese perché è una piazza importante, ho parlato con il direttore sportivo e mi ha detto che si punta molto sui giovani. È una piazza ambiziosa e sono contento di essere qua e spero di fare un bel campionato. Vieni dal settore giovanile della Fiorentina, prima volta nel calcio dei grandi, che cosa ti aspetti? Aspetto sicuramente di fare esperienza, di crescere e di far bene. Hai due giocatori importanti davanti a te come Corti e Blasi, naturalmente riuscirai a assimilare tutto, ma immagino che anche la Fiorentina voglia che tu faccia più minuti possibili. Speriamo dai, sono due giocatori importanti nei quali ruberò con gli occhi a partire da oggi, dal primo allenamento, speriamo di riuscire a far più presente possibile. Tu sei a metà tra Varese e Fiorentina, chissà mai che puoi iniziare magari qui la tua carriera da calciatore da prima squadra. Mai dire mai, mai dire mai.